Che? Da me! No no di trappolo, di trappolo, di trappolo! No, mi fa tanto morire stai! No, è cattivissimo, è cattivissimo! Uscire da Pinnacoli con una kill è veramente molto triste I have, I have Eh, nigga! Io ho piccoli problemi finanziari quanto riguarda i materiali Ma io ho segnato il totale! Eh, l'ho fatto io, però capito, ho sbicciato all'arma e non me l'ho fatta Fa solo l'animazione Guarda, Davide, va Guarda Guarda Eh, qua, ma mi tira una lagata e mi parte il colpo Ok Hai visto? Ti ho imbarato un'altra cosa, tutta una tec Ora sai come trollare i tuoi amici Bene Ciao ragazzi Sì E poi tipo ti nascondi, capi? Vai qua Ti vedono il nome, è quello il problema Poi la lanci la gas per fare tipo il fumogeno Esatto Perché hanno tolti i fumogeni? Erano belli E vai a terra Perché c'era? Sì, sì, c'era Sì, sì, c'era Oh, chi è? No, Davide Perché faccio spider Oh, bomba leggendaria, un nuovo Eh, tecchi, si venita a sparare questo medic Tuoi ti sto spaccando la moto Oh, c'è agenda, agenda Eh, Nord Giorgio Giorgio Aspettatemi anche io voglio partecipare al fake Nord Dov'è Nord? Cazzo, andiamo a un'altra E come non andiamo a Nord? Eh, come l'ho visti Eccoli Ma, c'è, ma visto prenderlo te Oddio Cattivo Io sono più cattivo di lui Se mi fai passata una deck Ma non ero io Uè, voglio No Oh, il marker figo Marker is not the best thing in the world E' calmo Saltelli Ma che cazzo di saltelli se non lo ho? Io ho dieci sceldini Ok Me ne vuoi dare due Tenga Allora, l'ho spezzato a quello E' davvero s'ha portato da chi? Ma che cazzo dici? Oh, poi ci stavano Ok Poi ci sono altri sceldini Adesso ne ho di nuovo dieci Ma si L'ho pusciata L'ho dato hit di bomba A più 2 hit di blaster Pollo Eh, morto Eh, ma io l'ho elettato col pombo E poi con la mia Eeeeeeeh Io ho fatto hit markle col pompa senza fare danno E un po' di colpi di mitragli In caso, hittati Guarda che tre sei strano, va Venite il rambino Guarda, andete la cinciata Ha mortito con una mini traiette Che cazzo Guarda Ok Ma c'è una casa Una macchina Oh, uno scarpe E che sparo, voglio Una scarpa Ragazzi che vuole? Ti vuole una scarpa? Io 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 Voglio io la scarpa Eh Chi arriva prima, vince No vabbè, per me non c'è importanza Ho trovato un lava Aha C'è una casa Io ho bisogno di MADS Eh, ma... Ho fatto il coglione sto giochi Io vedo un pompa d'oro Io? Poi c'è una polsola a 50 La potrei portare? Sì, la posso portare io Io me la faccio Che cosa ti vuoi fare? Basta La pozza Allora io me ne patto con la Con la frattura Dove stame? Ciao ragazzi Succo di pece Alla 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 Oh Mamma che quic! Ahia Eri morto lì Che nata è fisso, lo sai Eh Ok Capito tu fai il quick Prima capi fai tipo La scala per fare la jump Dopo picchi qua Boom Non batti Loro si pensano che sei partito Perché sentono il rumore E tu invece rimani in là E li cecchini tutti qua Questa è una tattica molto avanzata Che la possono sapere solo ai droplex I droplex Anche che cazzo di cecchino Guarda il mio cecchino Guarda Il mio cecchino si mischia con un piccone Guarda Io non la posso fare perché per mettere il piccone ho la X Un po' difficile Qui c'ho la 1 Io 1 e 4 Ah si ok è fattibile Oh Oh Sulla il foglio sull'altro Dove che che ha Casa che quando perché dove Hanno sparato con un pechino Ma dietro lì dove hanno sparato Voglielo sentito Mori Oh shit che pelo Ah ecco dove stanno Sono davanti a noi Regal Ah ah Eccolo quello con la testa pure Stanno agli alberi Certo Se si stanno Se stanno fermi per un attimo Gli arrivanti quelle cecchinate Non ho detto che c'era uno dietro di noi Voglio quello detto E' stato Ah eccolo quello là Ce ne uno là C'è uno dietro di noi Ve l'ho detto Ma che sta? A terra Quello dietro di noi dov'è Ecco dov'è A terra Ah Oh ma che Ora lo finiscono Il cazzo Davide Il tolato 104 Ah avrò acceso un altro Allora C'è un altro sacco Ma che è un verde come uno scorsore Ora già ma quanti sono Oh no Ho tirato giù me Ho dato due Ma hai fatto Ma hai fatto fa malissimo Chi è che mi ha tirato giù la scala? Chi è che mi ha tirato giù la scala? Che se è una scala No Aspetta sto cercando di capire meglio Ma C'è sto cazzo di albero Davvero? E' un po' che giù la scala Oh Oddio 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 Davanti Oddio Oddio Voté Oddio One E' un po' che è fondamentale Sgriando C 청혈 adesso ancora questa è sempre la secca hs bianco ok da me ok alla safe qua c'è un altro bomba d'oro sono morti veramente si io ho uno da uccidere chi è che c'è? sopra l'altro aiuto quello che ho fatto è l'hsb ma io venite a più a questa se la sta scappando dove vai? ma lui non può scappare con il mio rampino ah ma è l'ultimo no mica l'ultimo che faceva? dormiva eppure fuori safe dormiva? si voglio siamo noi 3 contro 2 sopra la montagna no scope sopra la montagna siamo noi 3 contro 2 eh si sono sopra la montagna io tengo la giamba e la giamberina raga materiali ne avete? la frattura tengo la frattura avete materiali da darmi? oh già le 50 ma dove sta? ah ci sei vediamo che devo push a questo e poi andiamo a push a questo raga ma no scope o no? ma vedi una foto ma basta ma è stato già le 57 non muore sta puttana tieni oh net aspetta e poi partiamo voglio io mo push non me ne pote eh vai 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 venite ah voglio venite raga l'ultimo di no scope eh dai let's go vai 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 ma è uno qua ma è ancora un nabo che fa? che fa? e va da me voglio no scope no no di trappo è di trappo è di trappo no mi ha fatto non morire sto no è cattivissima è cattivissima no no mi ghilla mi oh no scope no di no scope gg rekt ma erano due mondi bella 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 tu e io però bella vediamo quanto danno a giocatori 557 danno ai giocatori ciao